Nadia Cannito ufficializza la composizione della nuova giunta di Malnate. La sindaca terrà per sé le delega alla città dei bambini a rapporto con le istituzioni e all'attuazione del programma. A Maria Croci il ruolo di vice sindaco è la delega a servizi educativi, cultura, pari opportunità e gentilezza. A Gianluigi Baroni urbanistica, ambiente, commercio, edilizia privata, energia e sport. A Piero Battaini l'assessorato ai lavori pubblici, polizia locale, sicurezza e protezione civile. Caro Labotta si occuperà dei servizi sociali, di giovani e turismo. Enrico Torchia sarà al bilancio, lavoro e partecipate. A seguito delle nomine sindacali subentrano in Consiglio Comunale Olinto Manini per la lista insieme Silvia Binda, Davide Bisulca e Laura Covello per la lista del PD. Il 13 luglio in programma il Consiglio Comunale di Insediamento.